Attendeva di essere sottoposto ad un intervento chirurgico dal 2016 dopo quasi tre anni di traversie. Aveva ottenuto l'inserimento nella lista per essere operato all'ospedale Cardarelli dove aveva scelto di andare nonostante una figlia infermiera a Milano. Quattro giorni in corsia, l'ultimo giorno senza mangiare né bere perché da lì a poco sarebbe sceso in camera operatoria. Ma dopo 12 ore perché preso da una tosse opprimente a causa della gola secca ed essendo quindi costretto a chiedere ad un infermiere di poter bere un sorso d'acqua. Ha scoperto che non sarebbe stato operato e che nessuno si era preoccupato di informarlo. Mi sono sentito, non lo so, dimenticato come un oggetto qualsiasi. Non ci sono parole, non avrei mai pensato di trovare una sanità che io durante l'arca della mia esistente ho pagato sempre le tasse per questa sanità. È una volta che mi è servito perché noi siamo artigiani e non possiamo in effetti permetterci il lusso di ammalarci. Però una volta che c'è bisogno veramente ti senti calpestato, è trattato come carta data da buttare, da gestinare. Lei non ha trovato umanità all'interno dell'ospedale Gardarelli? No, nel modo personale, per come mi hanno trattato no. Ha scelto di andare via, si è sentito trattato come un peso, un numero, lui paziente costretto a chiedere le cure mediche di cui avrebbe fatto, come molti, volentieri a meno. Diceva io avevo sete, quel giorno nessuno si preoccupava di dirmi? Ho chiesto più volte se potevo arrivare, ho visto che ormai era tardi secondo il mio punto di vista, ho chiesto se potevo bere perché mi si era incollata la gola. No, mi hanno fatto aspettare ancora, alle 11 che non ce la facevo più. con la tosse. Alle 11 di sera, alle 23. Alle 11 di sera, alle 23. Non gliela facevo più, anche perché la tosse mi stava confiando in modo espotenziale l'ernia, in effetti. Mi hanno detto candidamente, il nuovo arrivato, che io non potevo mangiare e bere, perché addirittura non stavo nemmeno in lista. Un abbassamento della qualità di vita che non risponde ai canoni moderni di cui gli ospedali oggi si vantano. Negli anni c'è stata una crescente attenzione e richiesta di adeguamento degli standard di vita che l'evoluzione socioculturale, scientifica, tecnologica e medica ha prodotto spingendo organizzazioni ed esperti scientifici a studiare e mettere a punto interventi mirati verso una umanizzazione dell'ospedale, che non è soltanto quella medica, ma coinvolge una sfera molto più ampia che va da quella infermieristica, quella alimentare, da quella logistica, quella ambientale, dall'estetica degli arredi ai rapporti con i familiari dei pazienti, passando attraverso lo snellimento della burocrazia e l'organizzazione di attività ricreative sociali. Questa testimonianza purtroppo racconta tutt'altro. Lei si farà operare adesso al Cardarelli o andrà altrove? No, nel modo più assoluto. Visto l'ambiente che ho trovato io, forse sono capitato anche in un periodo particolare, sono stati attimi, però nel modo più assoluto, nel modo proprio più assoluto, perché io quando devo avere fiducia, in special modo di chi mi deve operare, se chi mi deve operare non mi tutela, come se sta a fare fiducia? Non lo so.